Bene, allora, la lezione di oggi è dedicata alle istruzioni cicliche. Abbiamo visto comunque avanti ieri le istruzioni condizionali, che sono tre, live, live then e live then else, scusate lo switch. Prima di parlare delle istruzioni condizionali vorrei tornare su un esempio che abbiamo visto sulla slide quando abbiamo fatto i tipi unsigned e gli operatori bitwise, che però non potevamo commentare ancora perché c'era un if. Allora richiamo qui l'esempio, è un esempio di uso dell'operatore AND bitwise. in cui l'uso che se ne fa è per andare a esaminare il valore di ogni singolo bit di quella variabile, in questo caso una variabile di tipo unsigned. L'ho ripreso questo esempio proprio dalla slide. L'elemento fondamentale di questo esercizio è il punto in cui il programma va a mettere in AND bit a bit, la variabile in questo caso si chiama numero, e un valore preciso che come vedete è una potenza di 2, dalla potenza 0 alla potenza 1 fino alla potenza 7, quindi da 0 a 7 sono 8 test che vengono effettuati. non mi ricordo se l'ho spiegato la lavagna l'altra volta, però praticamente il valore che rappresenta una potenza di 2 ovviamente è un valore che ha tutti i bit a 0, meno 1, che è quello in corrispondenza di quella particolare potenza. per esempio l'1 ovviamente c'ha tutti i bit a 0, meno il bit meno significativo che è 1, il 2 c'ha tutti i bit a 0, meno 1, che è il bit al posto 2 e così via. Quindi mettendo in AND un tale valore, con qualunque altro byte, in questo caso sono 4 byte, perché è un unsigned numero, quello che ne risulta è praticamente un effetto di mascheramento, per cui in pratica l'AND è tale per cui da 1 solo se entrambi i bit sono 1, in qualunque altro caso da 0 l'AND. Quindi essendo che tutti i bit per esempio di 128 sono a 0, meno quello di indice 7, cioè l'ottavo, ne risulterà che mettendolo in AND con qualunque altra cosa, ciò che si otterrà potrà essere una di queste due cose. O il numero 128 stesso, nel caso in cui in corrispondenza dell'ottavo bit la variabile numero aveva anche lei un 1, oppure nel caso opposto, in cui all'ottavo bit la variabile numero aveva uno 0, e 0 AND 1 fa 0, e quindi il risultato sarà 0. Quindi in pratica questa espressione, numero AND 128, può risultare o 0 o 128. Se risulta 128, vuol dire che l'ottavo bit era settato a 1 della variabile numero. Se risulta 0, vuol dire che l'ottavo bit era settato a 0. In pratica con questa tecnica riusciamo a vedere il valore di una variabile, non il valore di una variabile, la sua rappresentazione proprio bit a bit. E quindi che cosa facciamo? Facciamo il test per l'ottavo bit, per il settimo, per il sesto, per il quinto, per il quarto, per il terzo, per il secondo e per il primo, e li vediamo tutti 8. ovviamente sto parlando dei bit meno significativi. Questo programma qui, se lo vado a compilare adesso, non compila, perché è un programma fatto una decina di anni fa, quando le regole del linguaggio erano un po' diverse. Non so se vedete dei problemi. Allora, innanzitutto la libreria, perché? Qual è il problema? Forse si vede poco, vero? Siete in grado di vedere? Allora, una volta la libreria, quando è nato, il C++ ancora si portava il suffisso punto H sulle librerie, che è caratteristico del C. dopo è stata cambiata, è stata ristrutturata la libreria Iostream, adesso non si chiama più così. Poi c'è un altro problema, le parentesi angolari, perché adesso si usano le parentesi angolari, si usano le parentesi angolari per le librerie di sistema, quelle che il compilatore sa dove andare a trovare, in quali cartelli, in quali directory. Se la libreria la fate voi e la mettete in una certa cartella nel file system, dovete indicare lì tutto il path name, frac doppi apici. Le librerie vostre le metterete fra doppi apici quando svilupperete voi delle librerie per le vostre applicazioni. Ancora, c'è qualche altro problema? Manca namespace. C'è stato un momento che non si usava per Cine e per Cout né namespace, non si usava il perfisso STD, due punti e due punti. No, questo ve lo dico, perché magari doveste trovare ancora dei programmi in C++ con queste caratteristiche, non vi meravigliate e non vi preoccupate. Sono programmi fatti 15 anni fa. Tutto qua. a questo punto io credo che dovrebbe compilare. Salviamo tutto. C'è un warning? però la compilazione è terminata correttamente. quindi andiamo a vedere come gira questo programma. Mi chiede di mettere un numero per esempio 32 e lui mi dà errore perché ricompilo e mi dice che i primi 8 bit tutti i 32 sono quelli lì. Giusto? È giusto. Se metto 34 o quello che volete voi quello lì è il 35. Funziona se metto una char? perché no? Che vi aspettate che succeda? Allora gli operatori bitwise l'abbiamo visti per gli unsigned perché normalmente si usano con gli unsigned però in realtà funzionano con tutti. e anche qui c'è poco senso mettere in end una variabile di pociare con 128 però siccome in C si può fare quasi tutto ho la sensazione che ce lo fa fa e scusate ma non funziona a ricompilo stavolta addirittura non ha dato neanche il warning a questo punto dovrei mettere un carattere e vediamo la rappresentazione dell'asci K cosa succede se se metto il carattere spazio me lo fa vedere allora batto spazio e e premo invio non succede niente perché perché non mi fa vedere l'asci dello spazio vediamo l'asci del 9 questo qui cos'è il 9 o è l'asci del 9 e dipende da dipende da come è stata definita la variabile che lo ospiterà in questo momento è un asci ma se premo invio cosa mi sta facendo vedere mi sta facendo vedere il carattere asci corrispondente alla cifra 9 perché perché abbiamo definito quella variabile tipo char quando quest'operatore qui l'estrattore va a estrarre dal buffer di input e va a mettere in una variabile tipo char per cui ciò che trova lo interpreta come un carattere e adesso la domanda più difficile stiamo facendo una specie di esercitazione dentro la lezione una cosa un po' mista io vi dico che questo programma qui si può rendere decisamente più efficiente e quindi vi chiedo come e mi metto gli occhiali per vedere chi risponde no più efficiente è questo qui senza ciclo certo con il ciclo for potete utilizzarlo fatelo come esercizio è stato dato all'esame l'ho dato all'esame un programma che con un ciclo però ancora dobbiamo parlare dei cicli mi esamina tutto un file e me lo rappresenta me lo visualizza a schermo in binario esattamente utilizzando questa tecnica qui semplicemente bisogna mettere tutto dentro un for però ancora non ne abbiamo parlato ne parliamo fra un attimo no no questo proprio programma qui si può rendere più efficiente e quindi sarà più efficiente anche il for dopo allora lo switch qui non serve in quanto che sono tutti test secchi vedi che non c'è neanche l'if else non sono i if innestati vanno fatti tutti 8 questi if se fossero 32 bit tutti e 32 vanno fatti tutti non sono uno dentro l'altro sono tutti a livello 0 e quindi non è lo switch una soluzione che può rendere più efficiente comunque lo switch non è più efficiente degli if innestati ragazzi lo switch è semplicemente più leggibile come codice ma in pratica implementa degli if innestati oh ci stiamo avvicinando perché cosa vuoi togliere te? allora mi sta chiedendo di togliere mi sta suggerendo di togliere l'uguale uguale perché mi suggerisci di togliere l'uguale uguale 128 uguale uguale 64 perché il bitwise riporta o 128 o 0 o 64 o 0 o 32 o 0 ma il 0 in ogni caso verrebbe interpretato come falso tutti gli altri 128 64 32 fino a 1 sono tutti interpretati come vero allora il programmatore smart si accorge di questa stupidaggine e che fa fa quello che mi ha detto il vostro collega mi ci vuole un pochino perché non c'è il mouse un attimino piano piano lo faccio e vado pure con la mano sola state capendo quello che sta succedendo dunque abbiamo detto che l'if ovviamente si aspetta una condizione booleana quello che vedete lì è un operatore bitwise e quindi non restituisce un booleano restituisce un valore dello stesso tipo della variabile dei valori che sono i suoi argomenti ma se restituisce un valore qualunque di quelli che sono lì in verde vengono comunque interpretati come vero per cui in pratica questo programma qui salviamo tutto compila lo lanciamo e si comporta esattamente allo stesso modo ma è molto più efficiente congratulazioni bene dopo questo richiamo all'if che avevo detto che avrei fatto cominciamo invece a parlare delle istruzioni cicliche che sono quelle che implementano appunto i cicli praticamente quasi non c'è un programma scritto con qualunque linguaggio che non faccia dei cicli i linguaggi ad alto livello hanno messo a disposizione delle istruzioni specifiche per effettuare i cicli il C C++ ne ha tre il while il do while e il for in realtà sono in pratica tutti quanti riconducibili al primo cioè al while ma poi spiegherò perché c'è anche tutta una storia che viene raccontata quando si parla di queste cose circa il fatto che il ciclo venga controllato da un contatore o da una variabile sentinella sì solo un po' chiacchiere come vedrete perché in realtà la differenza è talmente sottile è una differenza di interpretazione si dice che la ripetizione è controllata da un contatore quando il programmatore sa già in anticipo quante volte dovrà essere ripetuto un certo ciclo allora ci metto un contatore ogni ciclo questo contatore aumenterà di 1 quando si arriva a un certo valore per il contatore si uscirà dal ciclo altre volte invece il programmatore per esempio quando deve esaminare un file byte per byte non sapendo quanto è lungo il file compierà un ciclo per esaminare ogni byte quindi rifarà sempre la stessa cosa fin tanto quanto dura il file però il programmatore non lo sa in anticipo in questo caso si dice che il ciclo viene terminato quando una certa variabile assume un certo valore e in questo caso si direbbe che questo è un ciclo controllato da una sentinella piuttosto che da un contatore quindi si usa il contatore il concetto di contatore quando sappiamo quante volte dovrà essere ripetuto il ciclo si usa il concetto di sentinella per uscire dal ciclo quando non sappiamo quante volte dovrà essere ripetuto l'istruzione fondamentale messa a disposizione dal C per implementare i cicli è il while il while ha quella sintassi che vedete in alto molto semplice chiede semplicemente fra parentesi una espressione booleana una condizione che deve restituire vero o falso se restituisce vero l'istruzione che segue lì non ci ho messo il punto e virgola ce lo metto al volo l'istruzione che segue viene eseguita dopodiché si ritorna a esaminare la condizione come si vede dal diagramma di flusso se la condizione è ancora vera l'istruzione viene eseguita di nuovo e così via in pratica l'istruzione verrà eseguita fin tanto che l'espressione condizione restituisce il valore vero quando restituirà il valore falso l'istruzione che è il corpo del while non verrà più eseguita e si passerà all'istruzione successiva al while nel codice sorgente io ho messo lì istruzione al singolare invece nel diagramma di flusso ho messo istruzione istruzioni ma vi ricordo che con il concetto di blocco di cui vi ho parlato lunedì una qualunque sequenza di istruzioni qualunque intendo dire comunque lunga messa fra una copia di parentesi graffe funzionalmente risulta come se fosse una sola istruzione quindi il corpo del ciclo while può essere costituito da una sequenza indefinitamente lunga di istruzioni ok facciamo degli esempi abbiamo una variabile contatore di tipo intero ovviamente i contatori sono interi unsigned tipicamente una variabile c una variabile c di tipo char e utilizziamo la funzione .get applicata al flusso standard input per prelevare un carattere dopodiché facciamo certe cose e poi facciamo partire questo ciclo while vi chiederei di dirmi cosa fa questo ciclo while legge perché c'è un cin.get cin.get non è un get line che vedremo più in là che legge un'intera sequenza di caratteri ma ne legge uno solo poi c'è un contatore che più più col più più si incrementa di uno combinando insieme con le parentesi grafe queste due istruzioni fanno una sola istruzione che sono il corpo del while e la condizione qual è? va a vedere se la variabile c dentro ha il char che corrisponde allo spazio ah non ho detto prima perché non funzionava con lo spazio l'esercizio di prima l'esercizio di prima scusate non funzionava con lo spazio cioè prendeva i caratteri ma non prendeva lo spazio perché? perché c'era cin e non c'è punto get qui invece c'è cin.get che prende gli spazi e anche prende tutti i caratteri qualunque carattere asci lo prende e lo mette nella variabile c ricordato questo qualcuno mi dice cosa fa sto ciclo conta gli spazi o conta gli spazi abbiamo letto un caratter dallo standard input adesso ci chiediamo se quel carattere è lo spazio quello che è stato appena letto ed è stato messo nella variabile c se è lo spazio si entra nel ciclo e si effettua le istruzioni del ciclo altrimenti non si entra nel ciclo con il while e si va all'istruzione successiva che qui non c'è allora se non era uno spazio non succede proprio niente se era uno spazio si entra dentro e che succede il contatore viene incrementato di uno e chiede un nuovo inserimento a questo punto cosa succede quello di prima cioè se viene battuto un carattere che è uno spazio allora si rientra dentro si incrementa il contatore e si rifà la stessa cosa se invece viene inserito un carattere che non è spazio si esce dal while e a quel punto quando si esce dal while il contatore che ci avrà dentro quanti spazi consecutivi ho inserito non quanti spazi ho inserito all'interno di un buffer che ho mandato al al programma cioè va a contare i i caratteri consecutivi adesso facciamo un uso un po' più significativo del while e cominciamo a pensare come si può impostare un ciclo per calcolare ad esempio una media aritmetica e qui il caso in studio è il caso in cui si sono messi a sedere a fare l'esame un certo numero di studenti che conosco per semplicità e questo numero sarà n loro avranno riportato dei voti questo programma vuole semplicemente calcolare la media dei voti riportati dagli studenti questo proprio esercizio cioè la sintesi di un algoritmo è quello che dovreste imparare a fare voi e che io non vi so insegnare non vi insegno in parte perché non ve lo so insegnare in parte perché ci vorrebbero più ore di 48 che ci abbiamo quindi come vi ho detto all'inizio di questo corso la sintesi degli algoritmi è una cosa che dovete abituarvi a far da soli come si calcola la media di una serie di numeri bisogna fare la raccolta di questa serie di numeri mettendo dentro un accumulatore la somma parziale che quando saremo arrivati all'ultimo numero sarà la sommatoria di tutti i numeri dopodiché sapendo quanti sono stati questi numeri che abbiamo sommato dovremmo semplicemente dividere la somma per questo numero lo so che molti di voi stanno dicendo che sono cose banali però io devo presupporre che questi esercizi non siano mai stati fatti vi chiedo scusa ma allora questo è quello che vogliamo fare con questo algoritmo e cioè inizializziamo il sommatore a zero altri concetti banali se dobbiamo fare una sommatoria l'accumulatore che è destinato a raccogliere i voti e i numeri lo inizializziamo a zero ovviamente se dobbiamo fare una produttoria l'accumulatore che mi deve accumulare i prodotti parziali fino alla fine lo inizializzeremo non a zero ovviamente ma ad uno qui dobbiamo fare una somma e quindi innanzitutto se gli diamo un nome alla variabile accumulatore che ricorda che è una somma non è che sbagliamo per cui sum sarebbe la somma la inizializziamo a zero e poi inizializziamo ad uno il contatore degli studenti che hanno fatto la prova dopodiché sì buonanotte dopodiché fin quando che abbiamo che il contatore degli studenti è minore del numero degli studenti che io so si sono seduti a fare la prova quindi se i è minore di n è vero che cosa facciamo andiamo a leggere il voto per esempio dall'input o da un file a seconda di dove stanno messi questi numeri aggiorniamo la somma parziale aggiungendo alla sommatoria parziale il voto di questo ragazzo e aggiorniamo il numero il contatore dei casi esaminati dei ragazzi esaminati e questo ciclo sarà ripetuto finché i è minore di n quando raggiungerà è minore o uguale ad n quando raggiungerà n più 1 si esce dal ciclo e si andrà a calcolare la media dividendo la somma dei voti riportati per il numero dei voti esaminati dopodiché si stamperà la media a video e il programma termina è chiaro il diagramma di flusso sarà chiaro a tutti adesso che è chiaro il diagramma di flusso lo dobbiamo scrivere in in c allora io adesso per per velocizzare vado a prendere vado a prendere e poi e poi la variabile importante quella che dovrà essere stampata media la vogliamo ovviamente una media aritmetica quindi la definiamo tipo flot e non intero si siete tutti dopo di che chiedo in input quanti sono gli studenti che hanno sostenuto la prova e vado a leggere questo numero che suppongo non essere zero e dopodiché vado a fare il ciclo implementare il ciclo di prima e decido di farlo con un while lo potrei fare anche con un do while o con un for ma adesso abbiamo visto solo il while quindi lo facciamo con il while e vado a vedere se i è minore o uguale a n i all'inizio è 1 n sarà non so 5 e quindi sarà vero per cui chiedo di inserire il voto presso da questo studente dello studente iesimo scrivo anche il numero d'ordine dello studente leggo il voto che viene battuto in input e lo metto dentro una variabile d'appoggio voto dopodiché vado ad aggiornare la sommatoria aggiungendo questo voto appena letto e poi aggiorno il contatore questo ciclo andrà avanti finché i non diventa maggiore di n a quel punto si esce dal ciclo come abbiamo visto nel diagramma di flusso calcolo il valore della media ma siccome somma è di tipo intero e anche n è di tipo intero se scrivessi così media diventerebbe il risultato del quotiente intero fra sum ed n perché quell'operazione lì diventerebbe la divisione intera per poter avere il risultato con la parte frazionaria un numero reale quindi devo effettuare una conversione di tipo o del numeratore o del denominatore di quel quotiente di quella frazione perché come abbiamo detto a suo tempo se io converto il tipo per esempio di sum e diventa float come in questo caso a questo punto questa barra qui non può essere effettuata fra una variabile n di tipo intero e sum che è diventato tipo float e quindi il compilatore fa diventare di tipo float anche n a questo punto c'ha due float sopra e sotto e quindi correttamente secondo quello che io voglio io programmatore verrà eseguita l'operazione di divisione fra numeri reali alla fine il risultato lo stampiamo a video va bene quanti sono i voti facciamo 5 perché se no ci mettiamo troppo il primo ha preso 30 e poi è andato a scendere è uscito dal ciclo e ha calcolato la media che in questo caso è proprio un valore intero siamo stati particolarmente fortunati si può migliorare questo esercizio? si potrebbero fare un po' di cosette una è questa qui però questa qui è un miglioramento non particolarmente significativo usare l'operatore composto più uguale e normalmente i programmatori usano quello per cui è bene che cominciate a vederlo e abituarvi perché rende l'espressione più sintetica adesso qui era semplice ma se l'espressione aritmetica fosse stata più lunga poi poi e qui è l'altra cosa questa è molto più significativa perché questa è veramente più veloce magari dipende dai compilatori ci sono alcuni compilatori che poi non basta dire compilatore bisogna vedere come lo lanci il compilatore con quali con quali parametri lo lanci perché anche il GCC per esempio può essere lanciato in maniera tale che ti che ti compili in maniera più efficiente o meno efficiente tu dici perché non lo fa sempre più efficiente perché a volte se lo fa più efficiente potrebbe dare dei problemi allora adesso non posso entrare nel dettaglio però quando un compilatore è spinto lui riconosce benissimo la differenza vedi la differenza fra chiedo scusa se il compilatore non è smart i uguale i più uno i diventa i più uno quella deprima non la tratta smart come questa qui questa è un'istruzione macchina incrementa un registro fra l'altro mette la variabile i su un registro fra l'altro cerca di lasciarcela su quel registro se è possibile quando il compilatore è molto spinto e poi per incrementarla non è che va a prendere dalla memoria la mette lì aumenta di uno con add e poi magari il risultato da e a x lo mette sul registro dove stava i non fa tutto questo questo va a incrementare direttamente con una sola istruzione il valore del registro che in quel momento ha la variabile i dentro copiata quindi questo è molto più più veloce quindi molto bene chi me l'ha suggerito beh a questo punto è inutile che chiaramente questo rifà la stessa cosa e non lo stiamo neanche a vedere andiamo avanti allora il fattoriale è un altro classico esempio di operazione matematica che si fa con un ciclo prima abbiamo visto una sommatoria cioè la media che richiedeva una sommatoria qui invece abbiamo sostanzialmente da implementare una produttoria per come è definito il fattoriale di un numero e vediamolo direttamente allora beh tutto questo ancora non serve per cui lo cancelliamo sapete cosa sono questi ne parliamo più in là sono i parametri del main però questo main non c'è bisogno di parametri allora li cancelliamo allora che cosa che cosa facciamo qui il fattoriale ovviamente è il prodotto di un numero per se stesso meno uno per quest'altro meno uno e così via fino a moltiplicare per uno e quindi sostanzialmente per calcolare un fattoriale bisogna implementare una produttoria come ho detto poco fa e quindi il modo più intuitivo di farlo è quello di vabbè dobbiamo sapere il numero di cui vogliamo calcolare sto fattoriale sarà n il numero di cui dobbiamo calcolare il fattoriale poi dovremo calcolarlo sto fattoriale e quindi lo dovremo andare a mettere su una variabile per esempio visualizzarlo in output allora ci definiamo una una variabile f che servirà per metterci dentro il valore del fattoriale di n f sarà concepita come una produttoria e quindi andrà inizializzata con il valore 1 e poi abbiamo un contatore che ci servirà per capire quante volte dobbiamo effettuare il prodotto cioè la dimensione della produttoria e sostanzialmente useremo questo contatore anch'esso inizializzato ad 1 per andare da 1 ad n dove n compreso è il valore del numero di cui vogliamo calcolare il fattoriale ad ogni andata del ciclo si prende la variabile fattoriale e la si moltiplica per i e così facendo abbiamo un fattoriale parziale che cresce quando i arriverà da 1 al valore n essendo partito da 1 arriverà al valore n alla fine avremo il risultato del fattoriale del numero n dammi il numero di cui vuoi calcolare il fattoriale 12 ce la facciamo a calcolare il fattoriale di 12 adesso sto parlando di nuovo a degli ingegneri e non a dei programmatori che sanno programmare in php ma non sanno la struttura dell'hardware che supporta i loro programmi beh 12 è un po' dubbioso ce la faremmo di questo? ovviamente no perché il fattoriale sarebbe un numero che non si può rappresentare su 4 byte dovremmo mettere forse un long sì con adesso i 64 bit forse ce la potrebbe fare adesso qualche dubbio ce l'ho su 30 ma su 12 vado abbastanza tranquillo ce la facciamo o no? al limite siamo al limite o no? no 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 ancora no ancora non siamo a lei appunto mi sentivo un po' tranquillo va bene andiamo avanti la seconda istruzione che ci mette a disposizione somiglia al while ma è diversa do while si chiama e somiglia molto da vicino al linguaggio pascal da cui il c ha attinto molto nel pascal questa istruzione si chiamava repeat until cioè ripeti una certa istruzione fino a che una condizione a una certa condizione vera il diagramma di flusso che vedete lì è molto simile al while a quello del while con la differenza fondamentale che il test di validità della condizione viene effettuato dopo che l'istruzione è stata compiuta quindi quello che sta implementando questa struttura anche detta struttura di controllo è un un algoritmo che prevede che l'istruzione comunque il corpo del ciclo comunque una volta venga eseguita la prima semmai ci si chiede se debba essere ripetuta ecco la differenza rispetto al while sempre di ciclo si tratta sempre di ciclo controllato da condizione si tratta la differenza è che il do while quell'istruzione i almeno una volta la fa in certi casi potrebbe essere comodo però è molto meno usato il do while del while in realtà potete fare con il while cambiando un po' le cose quello che si fa con il do while è viceversa dipende da quello che volete voi per esempio quello il codice che vedete lì a destra in pratica esattamente equivalente a quello che avevamo visto prima per cui non lo stiamo a commentare l'unica cosa che vi faccio notare che essendo che l'istruzione è stata compiuta almeno una volta il corpo dell'istruzione il contatore l'abbiamo fatto partita a meno uno invece che da zero in maniera tale che se viene eseguito una volta e non era uno spazio quel carattere il contatore è andato a zero e dice non c'era neanche uno spazio e esce subito cioè non era uno spazio esce con il contatore a zero quindi non è che il do while aggiunge potenza al linguaggio bastava il while questo è il messaggio che voglio dare può essere comodo quando sapete che almeno una volta quel ciclo di istruzione deve essere compiuto ecco tant'è che non lo stiamo a commentare possiamo implementare il fattoriale con il do while quello che abbiamo visto prima guardatelo e sostanzialmente non cambia praticamente niente l'unica cosa che cambia è l'inizializzazione di che? di niente solo del contatore l'inizializzazione del contatore deve cambiare ovviamente come abbiamo visto prima invece un po' più significativa è la terza istruzione ciclica ed ultima messa a disposizione dal linguaggio cioè il for però ve lo dico subito perché sia chiaro quello che non vi dicono gli altri professori non penso che e cioè anche qui torno a dire che il for è una mera espressione cosmetica del while è pura cosmesi perché in effetti però cioè non è che la cosmesi non serve a niente serve serve al programmatore per capire meglio quello che sta facendo quando che il ciclo è controllato da un contatore vi ricordate quello cioè lo pensate controllato da un contatore effettivamente forse forse mettere il ciclo nella forma che stiamo per vedere è conveniente perché è più compatto adesso il flusso che vedete qui sembra più complicato però adesso vi faccio vedere che in realtà si riconduce comunque a un while allora per prima cosa c'è una fase in cui un certo contatore viene inizializzato sto guardando il flusso io in questo momento poi si valuta se una certa condizione è vera se quella certa condizione è vera si esegue il corpo del ciclo che sarebbe l'istruzione nel while e nel do while dopodiché però trattandosi che abbiamo a che fare con un contatore di cicli effettuiamo il cosiddetto passo che sarebbe l'aggiornamento del contatore allora tipicamente si aggiorna il contatore di uno perché perché è enormemente più veloce come abbiamo detto prima con la l'istruzione in in nc incrementa allora dopodiché cosa succede se il la condizione dopo che il passo ha aggiornato il contatore è ancora vera si ripete tutto compreso il passo se no si esce dal ciclo in pratica tutto quel diagramma di flusso si può scrivere si scrive in c utilizzando la parola for con la sintassi che vedete su in alto si dopo il for si mettono le parentesi tonde e dentro le parentesi tonde ci vanno tre parti la prima parte è l'inizializzazione è un'espressione che serve c'è dentro l'assegnamento l'uguale per capirci e serve per dare un valore a un certo iniziale a un certo contatore a una variabile contatore che potrebbe essere definita dentro il for stesso proprio lì in quel punto nel punto inizio poi c'è un'espressione booleana condizione cond che sarà l'espressione che controlla se il ciclo deve essere ripetuto o meno terzo ed ultimo argomento del for è il passo che sarebbe l'istruzione che va ad aggiornare il valore del contatore che era stato inizializzato dentro inizio fuori dal ciclo for e immediatamente dopo la parentesi tonda chiusa senza punte virgola va messo l'istruzione anche qui istruzione i al solito può essere un blocco dopo l'istruzione ci va il punte virgola che come al solito mi scordo di scrivere però vedete ce l'ho voi allora ecco qua tutto questo for in pratica io lo potevo implementare e non cambiava niente a livello di codice macchina in quel modo che vedete lì a destra cioè potevo inizializzare un certo contatore all'interno del codice sorgente e poi facevo partire un while nella condizione del while ci mettevo la condizione del for dentro le parentesi graffe ci mettevo l'istruzione del corpo del for e poi il passo il passo lo tolgo da dentro il for lo metto lì e quelle due cose che vedete cioè questa cosa qua e questa hanno la stessa traduzione in linguaggio macchina quale vi piace di più il for o il while il for è più elegante a me non mi pare più elegante però è una questione di estetica ma lui veramente non ci ha tutti i torti vi faccio vedere perché lui ci ha ragione prendiamo sto fattoriale che c'è un while e implementiamolo con un for beh allora vado piano perché c'è una mano sola for ci devo mettere tre cose qui dentro innanzitutto l'inizializzazione del contatore qui il contatore era i si vede scusate allora che stavo a di dunque dobbiamo inizializzare il contatore qui il contatore si chiamava i e faccio i uguale 1 uguale e sarebbe l'inizializzazione poi oh se ci avete da suggerire suggerite e poi devo prendere la condizione del while e la metto come condizione del for e poi devo prendere il passo ma infatti il passo ci stava dentro il for eccolo qua dentro il while chiedo scusa e sto for sta cominciando a prendere forma a questo punto dopo il for cioè dopo la parentesi tonda chiusa ci devo mettere l'istruzione il corpo del ciclo del for e qual era era la produttoria del while perché il passo l'ho tolto questa volta però mi devo ricordare ci devo mettere il punto in virgola quel punto in virgola lì chiude l'istruzione for a questo punto sto while non serve più adesso se vado a compilare mi dà ancora un errore perché i era già inizializzata e non c'era bisogno di inizializzarla allora io adesso vi do una regola di buona prassi è bene che la variabile contatore del for sia definita dentro il for perché così non va a mischiarsi e avete meno problemi con gli identificatori mi spiego meglio questa variabile i qui non è bene che stia lì cioè non è bene usare come contatore del for si può fare e certe volte dovete farlo per altri motivi vostri ma se non siete costretti a farlo è bene usare come contatore una variabile specificamente definita dentro il for cioè io vado a fare questo lavoro qui vado a definire la variabile contatore dentro il for qual è il vantaggio di questa operazione che ho fatta adesso che effettivamente forse è l'unico punto di vantaggio che mi dà il for oggettivo beh quello che diceva il vostro collega però è evidente perché è chiaramente più compatto il codice così e si capisce subito guardando una riga quello che voleva fare il programmatore ma la cosa secondo me più significativa è proprio quella che ho appena detto e cioè che la variabile contatore del for l'abbiamo definita dentro il for qual è il vantaggio di fare questo ho detto che è meglio ma non ho detto perché perché non ho problemi a dargli un nome perché lo scope di questa variabile è il for stesso cioè fuori dal for non la potrei usare io per esempio non potrei stampare qui i in quanto che quell'i che ho scritto adesso è fuori il for e quindi non è visibile cioè non esiste quella variabile la variabile i viene definita sullo stack solo se il for parte fra l'altro mettiamo conto che c'era un altro codice prima un if che poteva farlo partire o non farlo partire quel for se non lo faceva partire la variabile i non veniva proprio generata allocata sulla ram in questo caso parte per forza perché il for parte viene allocata la variabile i sullo stack solo quando parte il for come variabile locale al for e quando termina il for con questo punto e virgola qua giù la variabile i viene annullata cioè viene quella zona della ram viene messa a disposizione per altri usi quindi insomma effettivamente il for ha qualche vantaggio via a questo punto possiamo lo compiliamo quant'era quello di prima 12 facciamo del meno questo quant'è il fattore di 10 eccolo qua e questo era il for cos'è che non ho detto ditemi voi cos'è che non ho detto sulle istruzioni cicliche di importante sì non ho detto una cosa importante è che le istruzioni cicliche possono andare in un loop infinito quando è che vanno in un loop infinito e forse non è normalmente non è il caso che accada ciò in certi casi ci fa comodo quando è che vanno in un loop infinito ah ricominciamo dalla prima quella più emblematica quant'è che un while può non terminare mai e cosa succede se non termina mai allora non termina mai quando la condizione è sempre vera non viene mai falsificata chi può falsificare la condizione dove si può qual è la parte del programma che può falsificare una condizione attenzione qui siamo per chi è esperto in un concetto di monotread quindi e anche monoprocessore ovviamente monotread e quindi non ci sono altri altri thread o altri programmi che vanno a lavorare sulla condizione l'unico programma che può lavorare sulla condizione è questo programma stesso e la domanda è quale parte di questo programma stesso allora questo programma c'ha prima delle cose e sotto altre cose questo è un è un focus no? dov'è che si può cambiare la condizione? l'unica parte del programma che può modificare la condizione è l'istruzione stessa del ciclo se l'istruzione stessa del ciclo non c'ha dentro un qualcosa che possa eventualmente andare a modificare la condizione e si è entrati nel ciclo e da quel ciclo non si uscirà mai perché quell'istruzione I che è l'unica che viene eseguita non potrà mai modificare la condizione e quindi entriamo in un loop infinito quindi quando concepite un flusso un ciclo dovete ovviamente pensare ma l'istruzione che sto adesso a implementare il corpo del ciclo è in grado di modificare il valore della condizione quando sarà il momento di farlo cioè il contatore nella condizione c'è un contatore ovviamente l'istruzione deve modificare il contatore perché se non lo modifica quel contatore a un certo punto non arriverà mai al valore limite se per esempio nella condizione c'è invece andare a leggere un valore dall'input è lì chiaramente nell'istruzione o nella condizione o nell'istruzione ci deve andare l'istruzione di lettura dall'input dopodiché dobbiamo farci un segno della croce sperare che prima o poi l'utente immetta quel valore che farà uscire dal ciclo perché se non lo immette mai il ciclo andrà avanti all'infinito va bene qualcuno si annoia però io questo devo fare se compilate il programma di prima grazie grazie infatti avevo detto che qualche volta potrebbe essere interessante qualche volta no allora ci sono dei programmi che si chiama daemon normalmente che tu li lanci e sono sempre in esecuzione perché compiono sempre un ciclo e stanno lì sempre indefinamente ad aspettare che tu faccia qualche cosa per esempio si usano non lo so le biglietterie delle stazioni ogni volta che arriva un utente quella è un'andata di un ciclo e dopo che ha servito l'utente ha stampato il biglietto ha fatto tante cose dove dove andare dove dove andare alla fine gli ha stampato il biglietto l'utente va via col suo biglietto e si è ritornati a un altro ciclo e quello è un ciclo infinito perché deve sempre servire potenziali nuovi viaggiatori che arrivano e chiedono di essere serviti adesso vi faccio vedere una cosa che normalmente non si fa vedere e cioè è come si implementano i cicli a livello macchina e guardate un po' abbiamo questa abbiamo fatto qui c'è un for banale che fa inizializza un contatore a zero e finché si mantiene minore del valore di una certa variabile a lo incrementerà questo contatore ogni volta di uno ma come istruzione significativa farà ogni volta ogni andata del ciclo aggiornerà questa variabile sommatoria del valore fa la somma che facevamo prima quello che ho riportato qui sotto è quello che vedreste anche voi su un processore a 32 bit adesso se lo fate su un processore a 64 bit vedete questa cosa qui un pochetto più complicata però ma sostanzialmente compilate un programma con quella lì adesso non lo faccio per un perdetempo con l'opzione meno S maiuscolo vi genera un file che ha lo stesso nome del programma sorgente con punto S andatelo ad aprire e troverete tutto un codice in assembly tipo questo questo però è in formato a TNT che è diverso da quello dell'Intel perché gira sorgente e destinazione ma insomma si capisce lo stesso e dentro il codice quella porzione di codice sarà implementata così addirittura questo qui è chiaramente un compilatore molto efficiente perché guardate cosa va a fare ma a parte l'efficienza del compilatore mi piace farvi vedere come sono implementati i cicli a livello macchina sempre della serie lo vedete oggi non lo vedrete più ma ve lo ricorderete come è fatto a me quello che interessa adesso è dare il principio come viene gestito un ciclo a livello macchina allora qui abbiamo una cosa stranissima c'è la variabile contatore i che prima di questo codice era stata messa dentro il registro edx lo riconoscete no? è il quarto eax ebx ecx edx sono i quattro registri operandi è un intel per azzerare il valore di questo registro si fa l'xor di quel registro con se stesso che è la cosa più veloce che si può fare per mettere tutti i bit a zero perché l'xor da zero quando i due bit sono o tutte due uno o tutte due zero è chiaro è chiaro che se faccio l'xor di un qualche cosa con se stesso quello che produco sono tutti zero ed è il modo più veloce per azzerare una variabile che in questo caso sta su un registro è stata copiata su un registro quella è l'inizializzazione poi dopo si va a vedere si va a comparare con il compare il valore di edx che c'ha i con ecx dove prima c'è stata copiata prima il valore della variabile a a questo punto se ecx ed edx sono tali per cui ecx no edx chiedo scusa è più grande che c'è la i è più grande di ecx che c'ha la a allora c'è jump if greater or equal cioè se è più grande o uguale salta all'etichetta l4 e vedete dove sta l'etichetta l4 esce dal ciclo allora supponiamo che non sia stato fatto questo cioè che non sia uscito in tal caso viene eseguita l'istruzione successiva che è metti la variabile sommatoria dentro eax che è il registro sommatore poi si entra nel ciclo si aggiunge la i alla a cioè edx eax si incrementa di 1 edx vedete quella è un'istruzione secca poi si confronta come abbiamo fatto prima ecx ed edx cioè si rifà il controllo i minore di a però questa volta se i minore di a innanzitutto si fa lo stesso si 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 salta a l6 che stava prima di quelle istruzioni e quindi quelle tre istruzioni vengono eseguite di nuovo quindi in pratica per per implementare un ciclo si utilizzano due istruzioni di salto una all'inizio per saltare proprio e il salto in avanti per uscire dal ciclo chiedo scusa per uscire dal ciclo e una invece un salto indietro per ripetere il ciclo ecco qua ora cosa è meglio scrivere quelle nove istruzioni in assembly o scrivere quella sola istruzione in C chiaramente è meglio la sola istruzione del C ed ecco qua uno dei motivi per cui il C si usa invece che l'assembly bene andiamo verso la chiusura no che è chiusura la chiusura no 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 vi annoio ancora i cicli si possono annidare e cioè il corpo di un'istruzione ciclica può essere essa stessa un ciclo qui per esempio ce l'ho messo tutte e tre per far capire il concetto sono partito da un do while e il corpo del do while l'ho pensato essere un while e il corpo del while l'ho pensato essere un for in pratica ci abbiamo tre cicli innestati ognuno di questi cicli esaminerà una serie di casi quando faremo i vettori sarà tutto più chiaro un programma di questo tipo si dice che ha complessità cubica perché in pratica le istruzioni del for supponiamo che il for veniva eseguito venti volte e supponiamo che il while veniva eseguito venti volte e supponiamo che il do while veniva eseguito venti volte in pratica si eseguiranno venti per venti per venti istruzioni dice vabbè non è sempre venti infatti non è sempre venti però quando vedete una struttura di questo tipo si dice che ha una complessità polinomiale dove il grado del polinomio è dato dal livello massimo di innesti che ci avete in questo caso tre questo è un classico programma che si dice a complessità cubica polinomiale di grado tre e a cosa può servire è un sacco di cose sarà chiarissimo la morte sua dell'innesto di un ciclo dentro un altro è la gestione delle matrici per esempio delle immagini allora l'immagine vi ricordate la prima settimana in lezione altro non è che una matrice di numeri dove ogni numero rappresenta il valore di colore di un certo pixel in realtà in RGB sarebbero triple di numeri ma insomma ci siamo capiti in pratica per elaborare un'immagine si fa un ciclo dentro un ciclo un ciclo per scandire i pixel su una riga cioè le colonne e un ciclo per scandire le righe tipicamente i programmi per elaborare le immagini per visualizzarle per lo meno hanno una complessità quadratica facciamo un esempio adesso non lo facciamo perché mi muore un po' di tempo però che fa questo programma qui allora definisce un po' di interi e poi chiede quante sono le linee e va a leggere n il numero delle linee poi chiede quanti sono le colonne e va a leggere il numero delle colonne poi che cosa fa fa partire un for da 1 ad n incrementando ogni volta la variabile i il contatore i di 1 dentro il for la prima cosa che si fa si va a capo poi la seconda cosa che si fa si fa partire un altro for questa volta con un altro contatore j che va da 1 ad m dove n sarebbe nella testa del programmatore il numero delle colonne e aggiorna di 1 il contatore j dopodiché questo for innestato quello più interno altro non fa che stampare a schermo il più io più di questo non posso fare perché ancora non ho fatti i vettori per cui l'esempio è stupido però almeno illustra il funzionamento di un ciclo dentro un ciclo senza che lo stiamo a provare perché perdiamo tempo lo farete a caso lo state facendo sui vostri computer non lo so chi non c'è il computer davanti che fa questo programma non so se l'avete intuito grazie dimmi dimmi pure che fa la calcola o la disegna la disegna in pratica questo qui prende un rettangolo di n linee e m colonne e lo disegna a schermo scrivendo di più provate a farlo e capite adesso l'abbiamo fatto con un carattere però in realtà questo si dovrebbe fare con i pixel nella grafica si fa con i pixel però si lavora proprio così dopo però dovete avere una struttura dati di cui ancora abbiamo parlato che è il vettore per rappresentare questi pixel i valori di colore di pixel ma lo faremo la settimana fra due settimane questo è un altro esempio che è un po' più complesso ve lo lascio come esercizio che serve a determinare tutte le terne di numeri tali per cui sommati questi numeri diano un certo valore n per esempio lanciate questo programma n definito a 5 e vi stamperà tutte le terne di numeri interi e scusate unsigned inizializzati da 0 a su per cui solo positivi che sommati vi danno 5 per esempio 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 2 2 e così via se cambiate il valore di n cambierà il valore del questo è un programma che per come è stato pensato ha una complessità cubica polinomiale di grado 3 bene questo ve lo testate con calma a modo esercizio perché vorrei andare veramente verso la conclusione visto che ce l'ho un quarto d'ora qui propongo il confronto fra while do while e for ma in realtà credo che avete capito che sono molto simili e sono interscambiabili anzi al punto tale che io vi direi che le istruzioni della programmazione strutturata le strutture di controllo della programmazione strutturata sono tre il blocco l'if senza neanche l'else e senza lo switch e il while blocco if e while si può fare a meno dell'if else si può fare a meno dello switch si o no l'ho detto ho detto che dello switch si può fare a meno facendo degli if innestati semplicemente se lo fate vi si confonde la testa perché quando andate a leggere tutti quegli if non capite esattamente cosa faranno quegli if dove avete messo la parentesi graffa dove avete messo il punto e virgola è una confusione adesso la domanda è più sottile perché non l'ho detto si può fare a meno dell'if else individuamente se si può fare a meno dello switch usando degli if innestati lo switch serviva per limitare il 2 dell'if del vero falso ovviamente si può fare a meno anche dell'if else mettendo un if dentro l'if dal lato quello dell'if insomma il primo if testi la condizione che era vera col secondo testi la condizione che era falsa e ha implementato l'if else quindi le strutture di controllo primariamente sono il blocco l'if e il while detto così però qualcuno si arrabbia perché no ma tu devi spiegarle tutte giustamente perché lui si arrabbia perché lui gli piace il forn è giusto che si arrabbi però che fa questo forn questo forn fa quello che chiedeva lui prima è un forn anomalo degenerato perché non c'ha inizializzazione non c'ha la condizione non c'ha neanche il ragionamento del corpo ma si usa per fare cicli infiniti come si usa il suo gemello che vedete lì a destra che è più usato per fare cicli infiniti ma io lo visi tutti e due questo qui while 1 è un ciclo infinito perché l'1 è sempre vero e qualunque sia quell'istruzione non potrà mai andare a toccare il valore di 1 che è un valore costante e quindi quello implementerà un ciclo infinito e come si esce dai cicli infiniti perché uno vorrebbe anche uscire ogni tanto dai cicli specialmente se sono infiniti adesso l'ultima parte di questa lezione che c'ho poco tempo ma è veramente bella e veramente importante do alcune nozioni che sono un po' il cuore diciamo così do una nozione che ne do 3 virgola 1 che sono il cuore della programmazione strutturata cioè adesso vi sto per far vedere delle cose che nella programmazione strutturata non si debbono fare a incominciare da questo break anzi comincio da uno un po' più debole del break che è il continue il continue stiamo per vedere tre istruzioni continue break che l'abbiamo già vista nel caso dello switch e go to cominciamo dalla più tenera appunto la domanda che mi è arrivata è ancora legale il go to la domanda la dice lunga su sull'accettabilità di questa istruzione ma andiamo per gradi perché la più tenera di tutte di queste che non debbono essere usate che ci sono ma non dovrebbero essere usate è il continue di che si tratta vedete lì a fianco un codice while e a sinistra il diagramma di flusso che corrisponderebbe a quel codice è un template di codice quello che state per vedere quello che vedete qui scusate allora qui abbiamo un ciclo in cui effettivamente c'è un test all'inizio del ciclo per cui sembrerebbe che è un while e infatti l'ho tradotto con un while come vedete lì a destra poi fa certe cose che sarebbero queste cose qui e poi fa un altro test ma a questo punto questo è un if perché in realtà non sta implementando un ciclo questo test 2 è un test che serve per vedere se deve fare una cosa o se ne deve fare un'altra dentro il while questo test 2 se è vero deve fare una chiamata un'istruzione macchina che si chiama continue ma non è un'istruzione macchina è un'istruzione atomica del C che non è un'istruzione macchina che si chiama continue esattamente così come è scritta che ha questo effetto se il continue viene eseguito all'interno di un ciclo termina quella iterazione del ciclo non termina il ciclo termina quella iterazione del ciclo cioè queste istruzioni chiedo scusa queste istruzioni che stanno dopo l'if che farebbero parte del ciclo while per effetto del fatto che viene eseguita questa continua qui le restanti istruzioni di quella iterazione del ciclo non vengono compiute ma il ciclo va all'iterazione successiva serve per non completare una certa iterazione di un ciclo perché a volte uno potrebbe dire questa iterazione del ciclo non la voglio terminare voglio saltare all'iterazione successiva e allora si dovrebbe usare un continuo questa è relativamente tenera come effetto non fa terminare quella particolare iterazione del ciclo ma il ciclo lo lo porta comunque avanti lo fa saltare all'iterazione successiva la seconda che abbiamo nominato e abbiamo già usato all'interno dello switch qui si chiama break e qui la vedete vedete l'effetto di questa istruzione se viene compiuta dentro un ciclo abbiamo un ciclo come quello di prima dove c'è un test per entrare quindi quello un while si fanno certe cose che non ci interessa poi c'è un if test 2 se test 2 ha successo si esegue il break dove prima si eseguiva il continuo adesso eseguiamo il break il break ha un effetto molto più potente del continue perché non è semplicemente che si limita a non far eseguire le successive istruzioni di quella iterazione ma interrompe proprio il ciclo cioè fa uscire dal ciclo si va cioè all'istruzione che c'era dopo il while con il break e quindi se vogliamo uscire da un ciclo infinito come diceva correttamente il vostro collega dobbiamo metterci un if dentro che qualche volta avrà successo e quando avrà successo eseguirà un break a quel punto si esce dal ciclo infinito che non è più infinito finisce e questo è un po' più potente del continue sono tutte e due istruzioni di salto come quelle che abbiamo visto in assembly jump if not equal ma questa la vediamo l'istruzione di salto da dentro il C la più grave di tutte la più potente di tutte è il go to famigerato go to il go to è una cosa da brivido perché praticamente cosa fa se viene eseguita in qualunque parte del codice eseguita qui l'ho messa dentro un ciclo perché volevo fare il pandan con gli altri due casi l'ho messa dentro un ciclo dove stava prima il continuo il break e ora ci ho messo un go to ma in realtà può essere eseguita in qualunque parte del codice innanzitutto c'è un argomento il go to che è un'etichetta in questo caso un'etichetta L si suppone che nel codice C non assembly a un certo punto ci sia una certa istruzione in una qualche parte del codice che può essere mille righe prima di questo while o può essere mille righe dopo righe di codice c'è un'istruzione che potrebbe essere A diventa 3 che però prima ha due punti e prima ancora ha topolino cioè è un'istruzione etichettata fino adesso non abbiamo visto mai in C le istruzioni etichettate si possono etichettare le istruzioni ma se vai a etichettare le istruzioni è perché vuoi usare il go to e quindi sei un disgraziato perché 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 hai pensato un algoritmo che funziona così che se in una certa parte del codice verrà eseguito un go to topolino la sequenza del codice salterà da quella istruzione a questa istruzione etichettata a topolino cioè salterà tutte quelle che c'erano in mezzo per esempio e se per esempio topolino stava prima tornerà indietro cioè può ritornare indietro come faceva il jump di prima che tornava indietro perché è famigerata questa istruzione c'è ancora è legale perché c'è gente che pensa che non può farne a meno perché gli è venuto in testa un algoritmo che deve fare questa cosa deve fare questo go to ma qual è il problema del go to che se lo fai una volta io riesco forse anche a seguire io che leggo il tuo programma quello che tu intendi fare ma se dopo quel go to ce ne metti un altro che salta di qua e poi ce ne metti uno che salta indietro e poi ce ne metti uno che salta di là e salta di qua e salta di là dopo un po' si produce quello che gli americani chiamano spaghetti code e cioè un groviglio di codice di salti che nessuno vi assicuro neanche il programmatore che lo sta a fare quel programma da un po' capisce più cosa sta facendo il suo programma soprattutto magari lo fa lo testa funziona alla fine è tranquillo e lo rilascia ma se poco o poco qualcuno deve prendere quel codice e fare delle modifiche primo per il fatto che non conoscendo quel codice non capisce quello che fa ma anche perché con tutti questi salti una modifica fatta in un pezzo di codice potrebbe mandare in tilt tutto il codice perché ti salti se tu metti un codice intermedio stai cambiando totalmente tutto il flusso del codice mentre invece se non c'era il gotoo lo metti giù in fondo e dici vabbè c'è effetto solo giù in fondo tutto quello che viene prima non cambia ma con questi salti non sai cosa cambia dopo è un casino nel 1966 due allora no prima di arrivare al 1966 test per vedere se avete capito cosa fa questo codice non lo leggo non lo posso ingrandire stavolta perché è una figura non è quindi chi è in grado di leggere qualcuno c'è in grado di leggere questo codice dopo però se lo vede sulla slide e si esercita sulla slide senza guardare la soluzione a fianco ok allora questa istruzione io ci ho messo c'è un while finché x è minore di 10 incrementa x di 1 poi parte x da dove? da 0 la incrementa x fino a che arriva a 10 poi ci ho messo in questo esempio commentandole tre istruzioni una per il break una per il continue una per go to paperino dove c'è fuori dal while un'istruzione che stampa perché ho finito le dita etichettata paperino alla fine del while c'è un'istruzione che stampa ho finito di contare praticamente questa dentro il ciclo while va a dire quanto vale x allora cosa fa questo ciclo while qualcuno che è sulle prime file che vede me lo può dire? scrive x vale 0 poi x vale 1 x vale 2 fino a quando x vale 10 nel caso che vale 10 non si entra dentro il ciclo si esce perché è minore scrive ho finito di contare e poi scrive perché ho finito le dita si parte da 1 perché prima viene incrementato 1 all'interno del ciclo viene incrementato x chiedo scusa partendo da 0 stampa 1 questo è perché io ho commentato le tre istruzioni di salto adesso tolgo il commento e voi che leggete chi è che legge? chi è che riesce a legge? non si riesce proprio? neanche sulla prima fila? mi dispiace tanto allora attestatelo per conto vostro tolgo il break ma è veramente il proiettore perché nel 1951 si leggeva ho decommentato il break quindi il break c'è scritto x uguale 5 break che deve fa questo? si ferma a 5 dopodiché che fa? vabbè non vi voglio annoiare si ferma a 4 in realtà perché già il 5 esce e poi dice ho finito di contare perché ho finito le dita decommentando il continue e commentando il break che succede? li stampa tutti meno il 5 perché? perché nel caso del 5 non effettua il count e va all'istruzione successiva quando x è diventato 6 e da ultimo il go to se decommento il go to cosa succede? stampa fino a 4 dopodiché? perché ha finito le dita allora ci sono altri esempi adesso concludo e il messaggio conclusivo è importante per cui mi dispiace ma è vista l'ora il messaggio è questo qui stavo per dire nel 1966 è stato provato ad opera di due ricercatori informatici italiani uno è stato professore all'Università della Sapienza di Roma per tanti anni Corrado Bom e Leonardo mi pare Jacopini non mi ricordo come si chiama il famoso il teorema di Bom Jacopini che sostanzialmente provò che per implementare una qualunque funzione allora il un algoritmo altro non è che è un modo per implementare una corrispondenza funzionale fra un input e un output allora te programmatore c'è in mente una corrispondenza funzionale dato un certo input deve restituire un certo output questa corrispondenza si può definire essere una funzione una corrispondenza funzionale devi cercare un algoritmo che la implementi prima con un bel diagramma di flusso e poi dopo lo traduci in C in Pascale in quello che te pare loro provarono che una qualunque corrispondenza funzionale fra un qualunque input e un qualunque output la puoi implementare mediante un algoritmo che non fa uso di istruzioni di salto che fa uso solo del concetto di blocco del concetto di if e del concetto di while non c'è necessità non solo delle altre tre che abbiamo scherzato prima ma non c'è soprattutto necessità di queste tre istruzioni di salto ed è una un 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 importante che magari ci tornerò anche domani se posso e cerco di spiegarmi con un esempio vedete qui due algoritmi che dal diagramma di flusso si vede che sono diversi perché nell'algoritmo che vedete in alto quello è un ciclo ma l'uscita dal ciclo è fatta a metà del ciclo c'è prima un'istruzione A poi c'è il test e poi c'è l'istruzione B se il test ha successo viene compiuta l'istruzione C e si esce dal ciclo cioè si esce dal ciclo e viene compiuta l'istruzione C l'algoritmo che vedete sotto è diverso perché c'è un ciclo ma l'uscita del ciclo è in test al ciclo cioè prima si fa si esamina la condizione se entrare o no nel ciclo se si entra si esegue B ed A se si esce si esegue C e si esce dunque i due algoritmi sono diversi è chiaro perché il diagramma di flusso è diverso ma entrambi implementano la stessa corrispondenza funzionale qui l'input non c'è ma lo vedete dal fatto che qualunque sia il valore di T e come venga cambiato da A le cose possono essere o che viene eseguito AC se T era già falso in partenza o viene eseguito AB AC se viene eseguito un ciclo sto parlando di sopra o viene eseguito AB AB AC se si esce al secondo ciclo e così via se andiamo a vedere la possibile sequenzazione delle istruzioni nell'altro algoritmo è uguale o si esegue AC e si esce o si esegue AB AC e si esce o si esegue AB AB AC e si esce e così via cioè in pratica i due algoritmi implementano la stessa funzione questa è una funzione che non ha un input ma lasciate perdere questo è una funzione che produce un output a seconda di qual è il valore di T ed ecco la conclusione della lezione di oggi si può implementare il primo algoritmo con un while con un do while o con un for e questa è una domanda che sono 15 anni che faccio all'esame e quando facevo l'orario e gli studenti lì certo cominciano parto dopo io li lascio lavorare torno dopo un'ora ancora stanno lì a cercare di fare con un while implementare il primo algoritmo allora il primo algoritmo che vedete in alto non si può implementare né con il while né con il do while né con il for perché perché con il while l'uscita è in testa appena si entra dentro il ciclo già si esce con il do while è in coda il for altro non è che un while mascherato ce lo siamo detti chiaramente per cui è inutile che stiamo a pensare al for perché quando il ragazzo comincia a pensare al for capisco che non ha capito niente dopo che ha scartato il while con un while non lo posso fare però adesso vedo con un for non hai capito niente il for è un while se hai detto che non lo puoi fare con un while come puoi dire che lo puoi fare con un for bocciato non si può fare ok guarda un minuto solo ci ho bisogno della vostra attenzione non si può fare capito perché perché si esce a metà del ciclo e nessuna delle istruzioni civiche che abbiamo appena visto consente questo allora uno potrebbe dire non si può fare in c no perché ci sono istruzioni di salto e adesso guardate subito quello in alto non guardate subito quello sotto ed ecco in rosso vedete effettivamente l'implementazione del ciclo che vedete a sinistra non può essere implementato il ciclo che vedete a sinistra senza il go to ma io se ho usato il go to si poteva ancora usare un break in questo caso senza un'istruzione di salto eccola qui faccio A però etichetto A se T non c'è il while uso un if se è vero a T esegui C altrimenti esegui B e poi torna ad 1 ho implementato quel flusso che vedete sulla sinistra con un if e con un go to e non c'era altro modo di farlo potevo usare un while con un break no non potevo usare neanche un while con un break perché quello non è un while e ho finito finisco dicendo che allora Bohm e Iacopini ci avevano torto no sono passati alla storia perché hanno provato un algoritmo un teorema che veramente non so chi poteva provare una roba del genere loro dicono guarda che quell'algoritmo lì non lo puoi implementare se non fai uso del go to ma se ti metti a sede e ti calmi e ci pensi un attimo puoi pensare a un altro algoritmo che fa esattamente la stessa cosa e che quest'altro lo puoi implementare con un while ed ecco sotto vedete l'altro algoritmo implementato con un while questo era il messaggio bello che vi volevo dare perché è un messaggio culturale e scientifico vabbè qua non si fa solamente tecnica a volte vogliamo un attimo respirare e guardare dal lato scientifico questa è scienza dell'informazione provare quel teorema non era una cosa alla portata di tutti ci vediamo domani aspetta che spenga aspetta che spenga